aspettiamo che gli organizzatori mandino i link della selezione del campione io sono Sir Perceval quello che ha scritto in chat praticamente seguitemi avrei raggiunto una bestemmia adesso per enfatizzare la situazione ma non posso quindi magari inizio a fare una chiacchierata giusto per fare qualcosa se no non so che cazzo fare uè mangia carote allora introduciamo il primo team adesso vi dico anche come si chiama un attimo di pazienza e qui ci sono migliaia di teams primo team ext extreme seeker che ho già di cui ho già parlato già commentato l'ultima volta portando parecchia sfortuna uè mike come va gli ext hanno un top laner che ha un nome fantastico che è shendamenave e usa anche shen quindi fa il doppio diciamo un gioco di parole doppio poi il mio preferito anche se shendamenave è il mio secondo preferito mio primo preferito è dio cane perché si chiama dio cane quindi non sto bestemmiando lo posso benissimo dire poi c'è lui è jungle poi mid c'è ext kimblee bot lane ext invictus che anche il capo squadra e zio sergio che fa un sacco di danni support hanno anche una nutrita panchina con zio fabio guavo e zio paolo ci sono tre zii all'interno della stessa squadra sostanzialmente e l'allenatore sir cozza vediamo è arrivato un messaggio intanto accedo alla partita ok adesso come scommettono che inizieranno in 15 minuti così tanto così tanto io voglio iniziare prima adesso io scrivo send me the link the champion iscriviti select when you are ready please oh mica eccoti qua sì sì è già amico sono già nel allora tanto ci stiamo organizzando appena inizia il champion select vi metto la schermata del champion select così la potete vedere nel frattempo vi illustro anche la seconda squadra con un attimo di pazienza sono gli hdr adesso vado a leggervi chi sono gli hdr devo solo trovarli nella lunghissima lista dei partecipanti con gli hdr vero no perché si chiamano uvi doppi underworld hydra nel quale partecipano 4 hdr però quindi tipo un clan con un'aggiunta diciamo allora l'allenatore è berserk poi top laner the duelist 92 probabilmente è nato nel 92 che è anche il capitano poi c'è risk hdr risk che è il jungler poi c'è mid laner che è fine o fine perché potrebbe essere sia inglese che italiano poi c'è hdr derivatum che è il bot laner la dc e hdr king che è il support sto leggendo la partita delle 8 e vai oh no ok ripartiamo da capo vabbè la partita delle 8 vi posso raccontare che una delle due squadre si è ritirata di conseguenza non c'è stata una partita delle 8 ma visto che lo sapevo vi ho illustrato la partita che vi siete persi adesso andiamo a vedere le partite che inizieranno adesso quindi alle 21 big buff boni contro hk ah ma hk siete anche gli organizzatori o sbaglio confermate con un cenno se è così bfy hk allora partiamo dal bfy teams andiamo a cercare il bfy no ok perché sapevo che gli organizzatori avevano anche una squadra ma non siete voi partiamo dagli hk che ho già trovati allora c'è sicuramente jackie george che ci scrive in chat come si sono ritirati non so perché si sono ritirati che è la dc il capitano è stereofonico che è anche il jungler poi c'è il top laner che ha un nome un po' difficile da leggere che è alik manasa manasa si esattamente poi abbiamo il mid che è panzor che non so se il nome italiano è un nome più tedesco quante gaffe e vabbè lo faccio per il content almeno qualcuno ride e poi abbiamo elite di jar che sarà un riferimento a qualche videogame che non conosco come support andiamo a cercare gli altri se li trovo il support è bravo quanto è sottoscritto vedremo 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 bfy che hanno come stemma un'icona baffuta allora hanno l'allenatore che è trollerito babe è un allenatore che trolla un pochettino e anche il capitano che non gioca posso dire che il mio nome si pronuncia peinzor peinzor spero di non sbagliarlo più perché con il nome faccio schifo abbiamo potatop moxt jungle the drake però scritto d e senza t h e mid poi abbiamo endless carry cioè il carry che non ha le mani speriamo che abbia perlomeno delle protesi per questa partita se no non so come potrà carriere la partita visto che è la dc intanto mancendo una sigaretta non fumate abbiamo wistia chi è tia se non lo sanno loro chi è tia io non lo posso sapere che è il loro jungler hanno anche una bella panchina perché hanno thanatos 0007 che per uno zero in più non è 007 poi hanno bf easy rider che sicuramente è un harley davidson poi c'è lilsouse 97 molto giovane e shill and blood che non so cosa vuol dire shill and blood però shillian cosa vuol dire sangue di shillian probabilmente ok copio il link e vi faccio vedere la champions select se sono capace potrebbe essere che canno vediamo vediamo queste tecniche segrete di twitch cioè di obs dentro il link dovrebbe funzionare oh mi chiamo al primo colpo al primo ma stiamo scherzando niente di tutto il team non ne facciamo uno del team avversario triste come cosa sono così forti dite c'è così disparità smurfano no sto scherzando guardiamoci questa champions select poi mi senne come va tutto bene air draft cos'è l'air draft ditemi cosa vuol dire questo gergo troppo tecnico non lo conosco vediamo vediamo state scherzando no non state scherzando vabbè ma voi non avete lui so giube solo persi fan capiranno vabbè lui se giube sono i giocatori peggiori tra i miei follower quindi ti auguro di non averli in squadra intanto stanno bannando hanno bannato una kali un jarvan e una un ari un nocturne una mumu probabilmente questi sono ban tranne ari mare che overpower sono ban dettati dai pick degli avversari vediamo l'ultimo ban della squadra rossa che sono gli hk vediamo un po' cosa bannano allora ultimo ban jean il primo pick voli bier voli bier top quindi si sentono confident con questo pick top cioè top dico io che top magari cazzo ne so magari jungle però penso sia top dai cosa dite top questo voli una vex iniziano già con il pick o p no ovviamente un torneo se non si piccano p nel torneo dove cazzo si piccano adc direbbe mike mike ne direbbe tante di cose bannabili in questo momento allora red pick secondo pick vediamo cinque secondi magari ah no ok perfetto lissin lissin quindi hanno fatto vedere mid jungle mid jungle hanno piccato a zira che non lo vedo da una vita tutti quelli che piccano a zira sono scarse ma così non sarà perché se hanno piccato in un torneo saranno fortissimi con a zira giusto ex aia ex aia quindi mancano il support e forse il jungle se voli va top sentite l'odore del fumo attraverso il microfono non credo c'è una puzza di scorreggia qua dentro allora vabbè questo streamer è demenziale se non l'avete ancora capito sarà così per tutto cazzo di tempo malfight quindi una lane non dico di gentiluomini perché voli berlo pesta malfight punterà a farmare e lo farà a p non credo proprio però sarà divertente vedere un bel ingaggio di malfight e vex tutti assieme tutti le mucchi a far casino allora siamo passati i ban hanno bannato Silas e Jinx ai i HK manca proprio la la bot lane da piccare ancora quindi gli banneranno tutti gli ADC sicuramente bandigianna vediamo poi l'ultimo ban dei dei baffoni cosa bannano trash li ha bannato la loro bot lane preferita non lo so in realtà sto spavendo a caso ma probabilmente avranno studiato la squadra avversaria no che sono io per dire che non l'hanno studiata vediamo poi i pick dei blu un taric minchia quanto cazzo è molesto taric porca puttana molestissimo bannano nerfate lo dio cazzo dio zio non l'ho finita quindi non l'ho detta praticamente non l'ho detta vediamo un po' adesso tocca ancora l'ultimo pick dei blu a Ziz regare l'emozione con i suoi polli fritti nella sabbia questo mi dissocio perché è un pochettino razzista come frase però un doppio senso cioè le cifre devo fare cioè l'importante è non dirla completa perché se dico la parola e poi l'altra parola senza finirla non è una bestemmia perché non è una bestemmia è completa se la dici completa è una bestemmia se no no l'ultimo pick horn quindi è volibear aspetta volibear jungle eh sì e blitzcrank support quante scuse quante scuse devo dire è vera la verità giusto altri polli di sabbia per attaccare sarebbe bella la skin a Zirpollo allora adesso vediamo se riesco a farvi vedere il gioco senza fare troppo casino no non serve vi faccio tanto stanno piccando le robe che hanno piccato prima vi faccio vedere questa schermata e basta perché dovrei far casino rischiare di far saltare tutto scommetto sulla vittoria degli HK se c'è qualche mod qua non so se potete fare le le scommesse se scommettono un po' di punti canali facciamo un po' di intrattenimento un po' di sano intrattenimento che qui vogliono scommettere ragazzi stanno piccando quello che hanno selezionato prima stanno semplicemente confermando i pic e fatemi delle domande non so più cosa dire non è che posso parlare a vanvera a dir cazzate per mezz'ora dai fate delle domande dite domande domande non troppo complicate le quali non so rispondere però scrivete qualcosa partecipate momento devo accendere un'altra sigaretta non conto quante ne ho qui da stasera ma non conto perché mi viene male un po' quanti anni ha chi ah io più di quelli che pensi prova a indovinare prima del big bang cosa c'era allora questa è una domanda che dovresti fare sul mio canale perché ti risponderei con una storia divertente su chi non si può nominare posso dirti non c'era niente una risposta del cazzo però non ti soddisferà questa risposta posso chiedere le foto degli arti inferiori puoi chiederle vediamo se qualcuno vuole mandarla sul discord del brotherhood italian gaming delle foto degli arti inferiori le mandi poi massimo mi bannano a parte che non sono bannabili le foto di arti inferiori fatele pure sul discord esattamente vi hanno messo il night bottom oppure il discord mettete le vostre foto sul discord di brotherhood italia così sono tutti contenti vi guardano se già mandate se foto no ora qui c'è da aspettare ancora un paio di minuti chiedo Elite di jar miglior soup del torneo dicono le statistiche molto bene molto bene allora sarò cattivissimo con lui quando sbaglierà qualcosa no non è vero quando sbaglierà il primo grab nell'invade meglio di mangiacarote meglio di mangiacarote credo chiunque giochi a league of legends sia meglio di mangiacarote support ho ricevuto foto di corpi cavernosi della bocca ad esempio non è bannabile mandare una bocca o di orecchie o di ombelico weeey allora pronti a perdere nella successiva partita silver mi hanno lasciato solo mi hanno abbandonato dicevano che sparavo troppe cazzate nessuno voleva fare il co-stream con me perché rovinavo la loro immagine è arrivata anche una denuncia mi ha fatto perdere il follower a qualcuno non è mai solo siamo noi con lui a fidare o a dargli una mano avete dato forfè e vabbè anzi avete dato forfette che è divertente da dire che non vedo l'ora di sfotterti silver durante la partita comunque qui ritardo dagli spettatori di tre minuti in tutto abbiamo ancora un minuto e cinquanta da aspettare poi prego il signore che questo lo posso dire che funzioni tutto così che possiate vedere la partita perché se non funziona un cazzo non vedete la partita semplicemente aspetta grande forfette giocatore fidabile valdostana comunque oggi ho fatto delle solo chiudere un'immagine di quanti ho trovato dai silenziate silver per per un minuto a modo per favore perché queste parole non si possono scrivere su twitch mi dissocio non l'ho letta non l'ho letta non c'è anche la chat su sul video quindi il canale salvo certo che mi dissocio però non l'ho letto quindi anzi non l'ho fatto vita e non vedere non mi dissocio come sempre mi dissocio da tutto trannega dalle bestemmie di solito il macchino si dissocio 28 secondi e sapremo se potremo vedere questa partita o no 16 secondi marfa darà più tank secondo me tank però sarebbe figo se andasse a p ok qui sta per startare vediamo se parte se parte siamo tutti contenti se non parte oh cazzo lì sarà un buon jungler soprattutto non so cosa stai per dire ok qua si sta si vede io la vedo adesso vediamo se la vedete pure voi allora champion select via oh guardate che bravo primo colpo funziona tutto mi hai messo gran cavaliere sul tuo discord no ti ho messo solo cavaliere perché per gran cavaliere devi sganciare i big money per la sub c'è solo cavaliere per chi gioca a vex non so vabbè ma un torneo dai fatti giocare i cappioli forti cazzo no meno meno quello stai stai mettendo una vita a caricare vuoi fare il mistificatore male male non devi mistificare caricherà caricherà ancora 0% qua senza preoccupare scriviamo a omega è partito è partito ok è partito stiamo già per andare nel panico allora mettiamo l'overlay track che è un pochettino stor no dai quasi giusto quasi giusto andrà bene così adesso devo giochicchiare un po' con questo coso qua finché non riesco a farlo partire il game è finito ma sono i tempi dello spettatore questo ok si vede oh eccoci qua con la reggia automatica non dovevo neanche fare questo partite in pausa stop lag it's coming really fast bene stiamo ancora aspettando pausa di 29 minuti spero sia una stima sia un timer automatico altrimenti ci spariamo di socio ma che sono ste bande rosse ma che siamo su Bloodborne eh vabbè ma sono le grafiche ufficiali del torneo non puoi lamentarti di tutto Mike veramente sempre di tutto stanno rientrando un po' di 2 minuti hai perso a tavolino ma se l'altra volta avete aspettato tipo mezz'ora avete pure perso poi no ci spariamo dei bei panini alla Nutella cosa c'entra appunto cosa c'entra c'entra niente c'entra proprio niente vediamo un po' qui quando starterà non starterà mai no dai vogliamo vederla sta partita siamo qui ben in 13 da quello che vedo io un evocatore si è riconnesso un evocatore partiremo breve e contro una brezzetta cosa fanno due squali in una gara mordono la pinna oh oh ci siamo ci siamo ci siamo è tutto bloccato che cazzo è tutto bloccato oh ah era normale era normale va bene va bene ma è che si fa togliere sta roba n oh n che figa quella roba l o no i u oh oh tutto sto togliendo poco poco questo quello mi schiaccio tutti i tasti tanto non pensare qui c'è un grab di blixcrank che sta per arrivare minchia bello miglior support e west bello sto grab mi è piaciuto hanno fatto bene a raccomandarmelo un bel fight cioè lissing sta rischiando la vita uh si sacrifica però prendono un'altra kill prendono ancora un'altra su oh su mal fight 3-1 quella partita si complica forse ne prendono un'altra ancora uh peccato dal best support e west mi sarei aspettato un predict però però il secondo lo missa Mike ma che porta sfiga sei qua si fanno il buff se si intranquillo vanno in bot lane uh c'è taric super incazzato ingaggiano già blitzcrank che è rimasto ferito dal fight di prima che flash che grab mio dio vabbè ma sto blitzcrank sta facendo solo la partita incredibile incredibile davvero forte mi sa che è più forte di te Mike questo mid si minano di brutto intanto e c'è il povero azir che le sta prendendo buonasera gabri premio se puoi certo che posso oh un'altra kill per la bot lane si e qui stanno prendendo un bel vantaggio i rossi gli HK questo taric è stato un po' babbo eh ma l'ingaggio non era male dai si è riposizionato bene con il flash blitzcrank ci sta ci sta no un altro ingaggio mid un'altra kill no perché si scuda ok si salva beh molto bene no uuuuh l'issin arriva dalla giunga però c'è mal che cazzo non è mal fight questo ingaggia si fa spaventare dai in realtà l'hanno chiuso in tre quindi c'era poco da spaventarsi una bot lane domina per ora una bot lane domina assolutamente uh e qui c'è una trappolona pazzesca qui magari si prende un'altra kill anche se orn è bello bello roccioso che ingaggia un contro ingaggio c'è vex che non va ad aiutare perché non serve eh allora qui io temo che la partita sia un po' senso unico hanno già un vantaggio di gold allucinante e purtroppo c'è poco da fare c'è poco da fare un altro ingaggio orn quante botte che tira su povero malfight non continua l'ingaggio però forse aveva paura di disin diciamo che taric è stato un po' babbo stai giocando contro l'ubilità al minuto 2 cosa ingaggi secondo me erano un pochettino tiltati qui non so cosa possono fare per recuperare sinceramente ups ho spostato la regia automatica si farmano sotto torre tranquillamente ma tu Gabri che sei tutto gli HK hanno vinto la partita precedente o no che sembrano molto forti comunque sembra che stanno giocando alla grande questo orn è fortissimo guarda che ingaggi fa però malfight lo pesta attenzione malfight full buff ce lo fa facilmente cazzo 4 kill orn 0-2 l'aveva ingaggiato orn con 14 di farma anche adesso un bel drake probabilmente si fanno c'è voli che li vedrà a breve immagino proverà a fare un bello steal per fortuna che ha missato perché sennò per voli non c'è niente da fare lui ci prova ci prova però è poco da fare hanno provato a fare un'azione ma è arrivato anche Vex e niente non vorrei dire che la partita è già chiusa però mi sa che la partita è già chiusa ma è che abbia ragione ma non è il secondo grab questo sarà il quinto che fa cioè il pronostico del secondo grab non vale più eh sì questo è gg questo è gg uh c'è pure un ingaggio di mal fight eh vabbè ma giocano davvero bene giocano davvero bene poco da fare eh ma ma Taric e Horn ah non sono proprio fuori mita eh secondo me no Taric e Horn sono forti dal minuto 500 ma amica no vabbè dal 6 dal 6 ma no Horn anche prima ma che Horn è un laner ostico adesso vabbè adesso chiaramente a 26 di farlo 0-4 non ha oggetti cosa deve fare uh hanno preso una kill una bella taglia doppia blitz si salva probabilmente però hanno preso una bella taglia il gold sono ancora 6k sopra quindi oops mentre blitz vex malfit e samira vabbè ma il malfighter non è così sgravato è così sgravato malfit or continua oh arriva un Taric sono anche volley qua si prendono la kill chissà se non vedo se è l'ulti per ultare via non credo l'abbia già usata a questo punto mi lascia una bella grassissima taglia a volley leggermente sta recuperando per quello che posso recuperare però sta iniziando a migliorare un po' il gioco per fortuna c'è ancora secondo me c'è ancora spazio ma volley ci lascia qui vogliono ingaggiare no ci ripensano 3 contro 2 anche se sono fidati non lo vogliono fare nel frattempo botterà in push arriverà xai a depusciare un pochettino dare una mano dice che perdere a minuto 19 per dare a minuto 31 dice che due kill due taglie fanno 10 minuti differenza ahia qua blitzcrank sa che abbiamo già il man of the match siamo già il man of the match qua qui c'è mal fight che pesta come se fosse un mid laner praticamente danni che fa c'è volley che ingaggia ci prova però lissine è sicuro del fatto che sta arrivando anche mal fight però sono in 3 e non credo riusciamo comunque a fare qualcosa uh bella schivata di mal fight qua si fanno l'herald botte botte da orbi di samira ma la regia cambia vanno top dove c'è horn che ci lascia le penne e la chat si spegne in questa partita un po' senso unico ahia uh samira bella gridi arriva però blitzcrank che la sa oh mio dio blitzcrank fantastico ma e vabbè e dopo questo blitzcrank lo aggiungo alle lo aggiungo agli amici così mi faccio carriare nel solo q e arrivo diamante tu sei attivo avrei fatto una battuta che non posso fare un bell'era al mid per iniziare ad aprire la mappa la regia inquadra blitzcrank che si riposa in base man of the match horn continua a ingaggiare nonostante ci siamo malfatti 5-1 che festa tantissimo uuuu e vex di prendere un'altra kill 3-19 non erano nemmeno nella nostra ultima clash 3-20 adesso e vabbè dai cosa è una partita un pochettino a senso unico purtroppo il divario di gold aumenta adesso siamo attorno ai 9k 8 8-9k qui c'è una specie di invidia voli che non se lo aspettava per cavolire era wardato potevano controllare qui mi sa che si prendono 3 kill e hk uuuu sei salvata però la inseguiranno fino alla morte questa si la presa arriva azir dovrà far qualcosa dive dal fidatissimo mal fight dire che manca tutto ma le stesse situazioni saranno pure tiltati un altro bel fight mid questo con l'ulti di taric potrebbe cambiare le sorti della battaglia no invece sono troppo fidati troppo non riescono più a fightare non riescono più a fightare non possono fare niente niente eh vabbè mi è proprio eh eh qui non c'è molto da fare non c'è molto da fare 8-0 lì 2-0 blitz ma blitz ha pure 12 assist eh partecipato a un casino di di kill parità secca o meglio delle tre secca 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 super secca la partita minchia questa vex che danni madonna danni allucinogeni la squadra rossa pusha quante squadre ci sono tante 32 non lo so sì tante tante poi dopo questa partita ce ne sarà un'altra dove purtroppo giocherà anche Kimi purtroppo per i vostri occhi no no oggi uh ma il fight manca l'ulti e vabbè dai la possiamo concedere la possiamo concedere un miss questa partita è diventata un aram tutti i mid vogliono prendere le torri vogliono prendere le kill vex shot a tutti il fight flasha dentro senza ulti non ho ben capito perché forse stanno un po' estagerando qua senza aver fatto la torre cosa geratino però vabbè si sprecano i flash e vex shot a tutto cazzo eh sì qua secondo me è un pochettino esagerato eh però alla fine non ha avuto ragione non è morto nessuno Malfa ha preso la kill su Tarik sì cioè non mi ricordo non ho visto c'era talmente tanto casino e questo è un free Baron un Malfa ah no che cazzo dico non è Baron ancora l'Herald ma che minuto siamo a 16 su un minuto 86 kg oh mio dio ah flasha dove prenderla a kilo ok ok controllano che non stiano facendo il drag e non lo stanno ancora facendo invece che perdere a minuto 19 perderanno a minuto 31 cheat eh qui la cosa positiva che contiene nonostante lo score la stanno mettendo tutta la stanno mettendo comunque tutta quella è la cosa importante Vex ancora eh ciotta troppo Vex 12-0 cioè provano a stirare il drago entra dentro e non lo stila peccato mi sa che ci rimangono pure perché arrivano tutti eh sì ma niente qui direi che non posso dire che si è chiusa perché si usa la prima partita però almeno la soddisfazione di prendere il drago ci sarebbe stata ecco peccato sarebbe piaciuto vedere un drago stilato con cattiveria e invece invece no purtroppo un altro un altro buon grab di Blitzcrank che viene sciolta al suo avversario e questo potrebbe essere l'effetto finale della partita con Malfett che dive alle torri del Nexus prendo un sacco di botte arriva Horn che blocca Blitzcrank che ci rimane povero Blitzcrank la sua prima morte della partita ma tutto questo mentre non facevano ancora la torre c'è ancora la torre in piedi la madonna però Vex ci lascia le penne un po' gridi qua con una taglia da 1000 però vabbè direi che questo 1000 di gold ormai c'è talmente tanto vantaggio che dubito possa fare la differenza comunque Voli è l'unico che ha le kill della squadra della squadra blu ah e questo Horn aggressivo ha provato a pushare una torre ma è arrivato subito subito Malfight che l'ha pestato di brutto Malfight 9-1 lo costringe al flash però c'è anche Azir sopra Azir e Taric stanno arrivando non è un inattivo eh no è 42 kill cioè è impossibile che ce ne sia un inattivo Mike proprio è impossibile un po' qui vogliono pushare ancora chiaramente pusharanno top in questo caso la rispiazione per la squadra avversaria è anche a me è anche a me però troppo come nelle ranked questo è un torneo senza pietà diciamo non è una draft dove magari ti metti a trollare o robe così è spenti da fare poi hanno preso secondo me già l'invade l'ottimo invade che hanno fatto sono riusciti a fare tanto sono riusciti a prendere un bel vantaggio che poi hanno capitalizzato dopo sostanzialmente qui c'è Orn che ci lascia ancora la 350 di gold avex come se ne avesse bisogno c'è Orn che prova a rallentare un po' l'ingaggio ma blocca tutto Samira e qui vorrò provare a chiudere la partita Tarik che salva per qualche momento Orn però ci lascia adesso Lizcrank ne grabba un altro Samira che si cura si fulla di vita praticamente e questo è credo proprio GG per gli HK oh c'è vuole vuole che mena vuole che mena togliere la soddisfazione su Samira non sono Mike non sono dei campioni campioni rotti qui è proprio hanno giocato bene c'è niente da fare hanno giocato bene non si può c'è 749 non puoi parlare c'è qualsiasi campione squadra 749 GG è finita la partita gli HK vincono stravincono questo game e ottimo bravi complimenti complimenti la verità è che sono morto otto volte te sai che eri tu tanedita perché sta l'amicizia bloccato tutto qua fungo secondo sì ma Samira una volta nella tomba me la sono portata ah rivoli grande voli fungo secondo è con noi ma no non posso ma no aspetta ma panna cotta aspetta è è uno della vostra squadra degli ometti dvdv cosa vuol dire dvdv cosa vuol dire allora devo togliere l'overlay e caricare l'overlay successivo per il prossimo game aspettate me lo carica l'ha caricato hai vinto hai vinto la scommessa se tu pensavi 15 minuti invece siete resistiti di più meno siete tra yarder e vabbè quella è comunque una cosa molto positiva molto molto positiva allora adesso prossime squadre ve le illustro velocemente allora prossimo game è tra to 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 me lo dico omt contro 3 the tribe contro one more time andiamo a vedere i team partiamo da 3 se li trovo 3 3 3 3 dove siete allora team italiano con fungo secondo ah che è quello che mi ha giunto che è il mid laner e capitano della squadra dei the tribe poi c'è reti è il top laner jungle head of the table quindi testa del tavolo poi c'è bot lane come dici padawi e way of glory come support poi c'è un king white again che è un tutto fare panchinaro andiamo dagli omt chiaramente i più scarsi del torneo adesso vi dico un po' da chi sono composti omt con avaler il loro famosissimo coach poi hanno gigi provolone new entry top laner nella squadra degli omt tuna de tot jungle drew q mid panna cotta che è il capitano e support della squadra ed infine smz takimimimaro si legge che già dal nome a me non è che espiri molto questo hanno un flc joker gabrie che si è fatto inserire con ricatto all'interno della squadra poi c'è pride stalker che è un top laner e hi i'm true damage un top laner vediamo invitatemi please così mi faccio aggiungere la partita e vediamo un po' come va mi avevano già invitato in realtà sono uscito gran cavaliere chi mi grazie eh ma per quello di giro Liban in privato tanto stiamo creando il game dove sta Raikkonen è solo Kimi senza Raikkonen solo Kimi senza Raikkonen qui stanno continuando a spostarsi voi non vedete ma io vedo continuano a spostarsi di squadra fanno casino sono proprio dei casinari questi o MT dovremmo iniziare a breve andiamo un po' è sempre Kimi il solito è Kimi è un disastro Kimi è un disastro Kimi usa Morgana trust me bannateli Morgana Kimi mannata di Morgana Kimi è quello speciale del team ci dispiace e vabbè ma è Kimi è così è così cosa ci dovete fare oggi è Kimi amaro ieri ero Kimi dolce ma perché ma che battute sono poi Kimi sono quelle così per rimorchiare ma funzionano non so se funzionano queste battute ecco la russa ha funzionato quale russa racconta Kimi che qui dobbiamo fare un po' di content basta che non vai sull'esplicito possiamo raccontare tutto l'unico modo sicuro per rimorchiare la platino dell'american express ma me l'hai fatta conoscere te conosciesti tutte ste russe per qua streamare secondo voi vediamo se chi di dovere mi ha sentito mi flamma su whatsapp vediamo allora lo stimolo si fa per la gloria non per le bussi non per la bussi dici si io lo faccio per i soldi perché ringrazio ancora brotherhood italian gaming per il bonifico di 2000 euro per questo streaming alla fine vabbè normale se volete anche voi che vi streamo sul vostro canale basta vi do l'iba non ci sono problemi le russe sono le migliori che dice al massimo le ucraine c'è già un po' di politica qui concordo sottoscrivo e confermo quello che dice silver da 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 tovarish non so cosa vuol dire spero non sia una parolaccia sì ma persi si dissocia anche su questo finché non dico cose bannabili fai la fattura eh sì su sti importi devo fatturare io eh vi fatturo tutto vi fatturo tutto uè gg provolone ma startiamo o no qua fatturo tutto anche perché c'è con la mclaren che mi sono preso settimana scorsa poi mi fanno i controlli eh 22 come veri eroi non al 4 meglio peloso o rasata ma allora un giardino deve essere ben curato sicuramente non so quando vai ad esempio in inghilterra vedi che il prato è molto rigoglioso ma anche curato sostanzialmente quindi il per me ti dice coltivata coltivata con cosa perché non so non è che non è che può essere coltivata proprio con tutto 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 perché non so se coltivi l'erba con la benzina tipo non è che vada proprio bene in generale no un filino coltivata per favore il mio nome di nuovo nel modo giusto se no sai che te faccio gigio provolone non gigi gigio eh stiamo un po' di pazienza qua io leggo leggo e fumo leggo e fumo giro la testa così non capisco più un cazzo quindi il nome lo leggo la buona come esce visto gigio provolone oh perché allora adesso devi raccontarci perché questo nome però adesso che l'ho detto bene bruma cosa dice se devo andare dove c'è il pelo mi faccio un ombre e fumo le scorre c'è sì mi piace il nome gigio e mi piace la parola provola quindi è stato fuori gigio provolone però provolone non è quello che fa tipo che ci prova con le ragazze cioè è gigio che ci prova con le ragazze ma non è uno stream di lol perché parliamo di giardini perché bisogna parlare di qualcosa mentre aspettiamo che Kimi sia pronto sempre in ritardo che è che manca qua chi è che manca chi sono i ritardatari e così e così e così comunque hai fame e mi sa che fai un tempo a farti un panino nel frattempo fate tempo a Kimi è stato l'ultimo a far vincere il mondiale alla Ferrari ed è l'ultima cosa che ha fatto vincere perché Kimi non credo che sarebbe in grado di far vincere questa partita non credo proprio allora qui organizzatori come siamo messi ah qui c'è un champion select a breve non ho ancora iniziato a bannare nel frattempo preparo per farvelo vedere ok select così potete vederlo stanno aspettando ancora comunque quelle delle persone quindi nel frattempo vedete un solo tri e ometti non vedete nient'altro nel frattempo fungo secondo si lamenta che la seconda volta che aspettano e vi faccio notare che porta male agli omt aspettare one more time cosa vuol dire one more time sarebbe sarebbe mica omt no è una tattica dei tri quella di mettere pressione con il ritardo ai agli omt che fanno benissimo che gli omt subiscono queste queste pratiche psicologiche negative quindi a me a te mette fame perché ti mette fame mangia ti qualcosa andate a fare in tempo mangia ti dei biscotti allora allora un pronostico dai Mike tu che sei quello dei pronostici cosa cosa dobbiamo aspettarci da questa partita sentiamo un po' persi ma chi fa ritardo come si chiama ritardatario perdatario coglione ti sei salvata grazie grazie ma era facile questa per salvarsi ah se ti sei corretto poi con salvato ah meno male meno male ma qui come siamo messi con i tempi che io di cazzate le sto finendo da dire quindi tra un po' faccio una gara di rutti e basta nooo silver non puoi andare in bagno e prendere i biscotti perché adesso startiamo non fai in tempo non fai più in tempo aspettato troppo troppo tardi ormai per il bagno e i biscotti è un pronostico lo so dite qualcosa chi vincerà questa partita chi sarà il peggior giocatore dopo Kimi la figa vince sempre dice Kimi ma non ce n'è di figa in sto match up mi sa che ci sono solo mazze mi sa questi giocatori vince lo sport l'e-sport vince è vero dai quello vince sempre vince sempre ora gioco mi sforzo così porto due belle bocce va bene va bene dai almeno quando sei steso a terra abbiamo qualcosa da guardare succederà almeno cinque volte questa partita il mio pronostico vediamo un po' qua nella chat niente l'ultimo che ha scritto sono io cazzate quindi non ci sono ancora aggiornamenti purtroppo qui si fanno i complimenti su delle battute da uomini di bassa lega in chat signor caster non scriva belinate sia serio perché belinate cosa ho scritto ho scritto solo che porta male agli omt di aspettare basta solo questo che non è una belinata è super vero ho un'altra barzelletta sentiamo una barzelletta però devi farne una che posso leggere perché se mi fa una barzetta bannabile non la posso leggere sono passati dieci minuti adesso dai adesso iniziamo tra poco capitano fungo secondo dice che stanno per arrivare componente la sua squadra di affrontare dopo che venne schiacciato io bello dice gigio questo si può dire proprio dispregiativo ma era quella era quella barzelletta pensavo che non fosse finita eh Gigio questa non so se la posso leggere mi hanno espressamente evitato di bestemmiare perché io ho detto guardate io faccio del content dove rutto, bestemmio dico un sacco di cose cattive mi hanno detto cerca di essere cortese, non bestemmiare i ruti, boh, non mi hanno detto niente però vabbè non li faccio perché non mi scappano come si chiama il campione mondiale di salto in lungo che è, non lo so è difficile questo, lascia magari il momento della chat per rispondere perché quello è il modo per fare content, bestemmi i ruti certo, cioè è il mio modo di fare content cioè io mi diverto mi frega un cazzo sinceramente mi diverto così ruttando come una bestia in live da lì alla ma questo qua le cerchi su internet secondo me stanno facendo la champion select andiamo a vederla allora per ora nulla si muove hanno ancora 10 secondi per un bunny blue primo ban xia xia van degli omt secondo ban che arriverà breve vediamo un po' cosa sarà ah ma hanno saltato un ban no ho visto bene eh sì perché i tiri sono quelli che non bannano nulla ah non è vero sta per bannare hanno bannato vex hanno bannato vex sono dimenticati dice non è vero 5 minuti persi così non bannano mai nulla allora lo scorso game questo hanno saputo che c'è Kimi che si offende se non bannano quindi dai bagniamo qualcosa bagniamo qualcosa quindi i 3 hanno bannato Vex e Vladimir e gli OMT hanno bannato Mastery e Xaya perché lo scorso game erano così scarsi che non necessitavano dei 3 bann ah ma i 3 hanno vinto lo scorso game o no questa è una cosa importante da sapere viene bannato anche Victor ok primo pick set bastardino set top udir carry dicono secondo pick quando pick tarda 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 non piccano o piccano sì che piccano dai non è persa a tavolino purgo top un counter counter pick di set o no però secondo me è un pick contro set vediamo il prossimo pick cosa sarà ciao Desi ciao Maverick Tim wait wait again and negotiate negotiator si dice negotiator ok 3 don't make me blush blush come cazzo si legge con la O con la U non ricordo ma l'hanno vinto me l'ho perso quel messaggio ottimo ottimo grazie per l'informazione quindi sono favoriti 3 gli OMT con Kimi cioè favoriti è una parola che possono essere solo sfavoriti prossimo pick set e Lucian quindi piccano marito e moglie sostanzialmente contro poi c'è un bel volibear jungle dove devo bettare bisogna se c'è qua un mod che mette che non sono mod dico solo cazzate in live se c'è qua un mod che magari sparano un bel eh Joker c'è dai fai una bella bet se puoi marito contro moglie come Johnny Depp e Amber e Amber e Red quindi ci aspettiamo una una bella cagata di Senna nel letto di Lucian in questo caso facciamo serio che sta durando più della partita di prima sì S-Word cos'è S-Word prossimo pick Lilia quindi ci sarà Kimi con con Lucian non promette bene allora Joker nella sulla destra dovresti avere un overlay dalla dashboard del di Twitch se non trovi passali tutti dovrebbe essere un pallino una roba così se non lo trovi vai sul più sotto e aggiungi non so se è sondaggi o qualcosa che ti ricorda comunque una scommessa e poi da lì è tutto guidato spero venga rimossa da acqua speriamo anch'io la Lilia si impara ad amare Amber dopo le cose che fa nel letto puzzolenti voglio Emilia Clark sono dal cell e dal cell non l'ho mai usato sinceramente però c'è la modalità mod in qualche modo da poter utilizzare avrebbe ragione Senna prossimo pick qua ci sono i ban intanto hanno banato un Veigar mid c'è un altro ban che è trash non l'avevo visto che è in piccolino vedo in piccolino vediamo il prossimo mi piace Emilia Clark deve ancora vederlo ma mi sono arrivate delle brutte segnalazioni tipo sull'ultima stagione